Con Tanghetti Salotti risparmi più di 500 euro sulla poltrona alza persona Noemi, realizzata solo con componenti italiani, con due motori indipendenti per regolare gambe e schienale, un sistema di ruote per spostare poltrona e persona da una stanza all'altra. Solo per questo mese vieni a provare la vera differenza con quelle di importazione. Da Tanghetti Salotti a Cazzago San Martino, zona industriale Barco e Darpo Buario Terne.